E la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars Preparate i pop corn ragazzi perché è uscita una skin Ok lo so, era pessima quella dei pop corn però in effetti ci sta ragazzi Nuovo pop corn rico Che costerà 150 gemme, lo potete comprare scontato a 109 E no, e no, e no, e no, e no, e io qua ci piazzo una critica Io qua critico perché ci sono due skin che hanno lo stesso prezzo E soprattutto il prezzo in questione è quello un pochettino più alto Perché una delle due non sta sulle 80 gemme? Ok sono due skin entrambe molto belle quindi per carità ci sta Il prezzettino un pochettino più alto Però Supercell secondo me su ogni gruppo di brawler devi fare delle alternative di prezzo Non puoi piazzare dei prezzi uguali Almeno che non si parli di Brock che ormai di skin ne ha tipo 500 Però pure nel caso di Brock ragazzi ci sono vari livelli E ogni livello costa un pochettino in più C'è quello più economico, quello un pochettino più caro Quindi per questa volta vi perdono ma Non fate i birichini Per la prossima volta spero che Supercell si potrà rifare Detto questo possiamo tornare nello shop Come al solito vi ricordo prima di cominciare di mettere un bel pochettino in su Che è importantissimo per supportare il video Visto che oggi andremo anche a spendere delle gemme Procediamo con l'acquisto ragazzi E andiamo anche ad esaminarlo insieme 3, 2, 1 vai Uno dei suoni più belli che si possono ascoltare su questo universo Ma si, già che siamo qua ci andiamo a pigliare anche un po' di free points Per la nostra Pam E ovviamente andiamo subito, ma dico subito A cambiare la skin Ok, eccola qui Via con l'analisi Allora vabbè i popcorn dentro che ribolliscono Scoppiettano ecco Sono molto carini Lo spara popcorn Ci sta Ci sta Questo abbigliamento È riprodotto abbastanza bene È un bel rosso Questi pantaloni neri sono stilosi Insomma io lo promuovo Come skin mi piace parecchio Anche nonostante la mia precedente la mente là sul prezzo Tornando a ripetere che Lo accetto volentieri Visto che entrambe le nuove skin di Rico Visto che vi ricordo sono state aggiunte teoricamente insieme nell'ultimo giornamento Anche se questa la vediamo solamente oggi Sono entrambe di mio gradimento Sono molto molto gradite Ma detto questo andiamo a giocare ragazzi Questa è la situazione coppe Io sto per partire proprio adesso con una live Quindi vi mostrerò le partite che farò direttamente in live con il mio team E speriamo di non droppare Perché sono già due serie che stiamo mungendo coppe come dei maledetti Comincia a puzzarmi la cosa Non è molto ma è un lavoro onesto Come al solito Non è molto ma c'è qua Non è molto ma c'è qua Non è molto grosso Se tu Andiamo E mi hai detto Vai Non ce ne andiamo avanti Ma vedete come entra subito Easy 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 Così vi voglio belli carichi raga Ok E entra subito Yuppu Mangiate i burkoi popcorne Mangiateli Ok, allora vediamo se riusciamo a spaccare i denti Ma che bella la ulti con tutti i popcorn, raga Quanto è bellina Quanto è bellina Ma fatemi portare stasera sto recall 500, vi prego Ma quanto è bellina sta ulti Potrebbero sfondare leggermente, come questa impressione Ma guarda un po' che strano Ma guarda un po' che strano Ma guarda un po' come fa un gol Ma va bene, va bene Ok, raga Occhio Oh, cioè Bella subito lì, bella subito lì E muorici, manate il popcorn Vai Dai, 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 bella Beh, no Zizi Cosa fai? Trolleggi? Trolleggi Mamma mia Che potenza Che potenza, raga Full team Full team con Rico e forti C'è già la seconda volta E avete un po' rotti i marroni, eh Oh, là E scusate il francese E Fede, cosa vuoi che faccio? La live di Rico Vuoi non usare Rico? Scusami Mi stai dicendo Mi stai dicendo questo? Ma Lion è fortissimo Ha girato strabene prima Ha fatto anche gol subito Tu decidi, no? No, perché Ho sprecato una ulti Bello Ammazzamelo Vai Zizi Passa Andano a mandarmi un cacchio Guardalo Uh Lo show Prego Tutti dentro Tutti dentro Tutti dentro Tutti in porta Tutti in porta, raga Grazie Ok Vamonos Perché? Perché Daryl? Vogliamo andare più fisici In sta partita? Allora Vediamo un pochettino Cosa riusciamo a fare Qua ci abbiamo due power up Che non è malaccio Allora Là che ci abbiamo? Ci abbiamo Quelle due ziette Che andrei A colpire Possibilmente Maxata Lasciamola pure a starla Opla Via 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 Bello il push Bello il pushettino Dove sei zio? Via 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 Opa Ce l'hai Ce l'hai Vai che ci sei Vai che ci sei Buona Pilla power up Tattico E' tua eh Ce l'hai Ce l'hai Ce l'hai Bravo 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 E' pure ribalzato Allora Dobbiamo un po' di vita Tranquilli Vai 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 Ul Tazza Ok Basta prendersi power up Poi fai che cacchio vuoi Buono Bello Valle Va Valle Occhio l'orso Bubu Occhio Bubu Ok Vai 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 Attenzione Bella lì Vai, vai Con questi colpetti rimbalzanti Tatticissimi Ma che belli Belli questi colpetti rimbalzanti Sta mappa Ok Se avessi lo star power Raga Ma non c'è Vai Vai Vai, ammazzala Beccala per favore Bella lì Ok Non lo beccarò mai più da lì Prendiamo così Prendiamo così Niente Ce l'ha un po' con me mi sa Via, ok Buona Buona lì Vai Ma è uscito un video Sui brawler al 500 Mickey È uscito Ieri tipo O oggi No, oggi è uscito Cosa Non l'hai visto Occhio Buona 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 Via 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 Uscialo di brutto Bella lì Fatta la golosa E adesso muori Ok Bello Bello lo spawn Bella la partenza Due team fatti Buona lì Buona lì Buona lì Ha missato un pochettino La ulti Zizi Ma va bene Ok Ok Vai Se riesco solamente a sfiorarlo lì Buona un po' E via 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 Urca Buona lì Buona lì E muoreci E muoreci Buona lì Buona lì Bella sta partita Endia E rieccoci qua ragazzi Il giorno seguente Ieri sera abbiamo fatto Veramente tardi E nonostante tutto Non siamo riusciti ad arrivare a 8800 cop Me ne mancano Due Mannaggia te Anche se probabilmente Mentre voi state guardando questo video Io sono in live su twitch Quindi ragazzi Vi ricordo in descrizione C'è il link Per twitch Perché sto già facendo un'altra live E quindi vi aspetto Se volete venire a fare un salutino Nel frattempo Io riscuoto il volo Le token Vado un attimo nello shop Anche se appunto Non c'è niente di carino Se non questi ticket Ah è uscita la robo rumble Forse Oggi in live Nerderemo un po' Con la robo rumble Perché ho bisogno di far bauletti Per il momento però Cominciamo ad aprire I brawl box Che abbiamo qui Ne abbiamo 5 Il big box Ovviamente lo tengo Per la nostra serie Sui big box 70 di oro Molto buono Taretta Rico E le gemmine Bello sto brawl box Niente male Perché vado nei ticket E devo andare qua Ok Andiamo un pochettino 23 di oro Frank Barley Skip bonus Un ticket Ripeto Ticket Ben accetti Perché ragazzi Li useremo poi dopo Per la robo rumble Andiamo di nuovo Che cosa abbiamo qui Un 50 di oro Non male Frank per 6 Poco per 10 Nessuno skip bonus Altri due bauletti Abbiamo un 23 di oro Un barley per 5 Un bull per 6 E concludiamo con Oh Leggendario No è impossibile 14 di oro Shelly per 8 Rico per 8 E due ticket Io ormai Non ci spero Neanche più Beh ragazzi Con questo è tutto Prima di salutarvi Però due cose Molto importanti La prima Un ringraziamento A tutti quelli Che si sono iscritti A instagram Vi ricordo Link in descrizione Lì vi ricarico Tutti i best moment Delle live Perché abbiamo raggiunto Gli 8000 follower E la seconda cosa Invece Oissa Oissa Siamo Ma stavolta È veramente Enorme Raga mi giuro Non ci passa Non ci passa Aspettate Nel prossimo video Un salutone Ciao 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 Ciao